Ciao a tutti ragazzi ben ritornati qua sul canale di BattleforGames, io sono Carlo e oggi ragazzi siamo tornati per fare un nuovissimo video su Super Meat Boy Ho deciso di acquistare questo gioco perchè ho visto su Youtube che molti Youtuber l'hanno fatto e hanno bestemmiato in tutte le lingue del mondo Allora ragazzi basta, adesso voglio bestemmiare anch'io Quindi ragazzi partiamo subito, allora non ci ho mai giocato in tutta la mia vita quindi non so neanche cosa devo fare Allora, ah questo è il mondo va bene, iniziamo con questo dai Fatemi sapere nei commenti ragazzi cosa ne pensate di questo nuovo gioco che magari potrei portare sul canale anche frequentemente se vi piace Mi avete consigliato dopo il vlog dei giorni scorsi, quello dove vi ho un po' chiesto chi era presente e chi no Alcuni giochi che da poter fare mi avete consigliato anche Cat Mario che io però avevo già portato Forse ormai un anno fa sul canale avevo bestemmiato anche lì però se vi dovesse piacere ragazzi ve lo riporto molto molto volentieri Iniziamo ragazzi primo livello Allora vediamo, io non ho l'audio quindi spero che non serva Spero che non si, ok così ci si muove, come si salta Space, ok space si salta, perfetto Ah devo tenere premuto, bello Allora, con calma perché qua Via Mamma mamma Ah, bastava fare così Ok, perfetto, è stato abbastanza easy Primo livello, vabbè dai, era abbastanza easy Ah, ma posso fare anche il doppio salto No, vaffanculo salto, stronzo Allora spero che non si sentano troppi casini della tastiera Eh, perché c'ho la tastiera meccanica ragazzi e spero che non faccia troppo casino Ok, secondo livello completato Ci sta iniziando come un po', no, come cazzo No, vabbè regà, è impossibile Forse però devo fare No, come cazzo si fa Ok, vai, salta No, così non ci si arriverà mai No, così no Dai Ah, ma se primo shift si corre e quindi salta più forte Ok È stato easy, bastava scoprire i tasti Regà, bastava scoprire semplicemente i tasti Che cazzo è? Ah, ah, il replay Next level, ok Bene qua Dobbiamo divertirsi Dai, vai su, non rompere le palle Oh Ok Così è stato abbastanza easy Ok No, 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 no Stronzo Regà, fa incazzare sto dopo Io lo so Vaffanculo Non va su Oh, però forse devo prendere quello Ok Questo lo riusciamo a prendere No, 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 no Dobbiamo saltare No, non lì No, no, no Vaffanculo Regà, è impossibile Sì 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 Mamma mia Regà È un casino Ho capito perché gli youtuber ci bestemmiavano Qui mi sa che muoro Sì, vado No Dove devo andare me Andare qua sopra Ok, non così Sì Grande Attenzione Spider-Man Regà, non so come ho fatto, eh Mi è venuto così Ah, cazzo Vai su No, stronzo Non cadere Regà È un casino No, 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 no Ce l'avevo fatta, merda Ok, ancora Sì Ok Ah Mamma mia Non so come ho fatto ad andare là sopra Vabbè Non lo voglio sapere L'importante ci sono riuscito Ok, qui bisogna essere attenti A quelli A quelli, Carlo A quelli Allora, con calma Sì Super sa No, no, no Ho rischiato tantissimo No, ancora Ok No, salta Sì Salta Sì No Vaffanculo Ok, con calma Ok, così No Corri No Così Allora Salti Ok No Ok, il primo si sopra easy Perché è piccolo Sì Grande 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 Sto diventando Un pro Quasi Quasi Ok, qui sarà più complicato E invece no E invece no È stato Salta Ok No Zio Ok Ok Non è che ce la possiamo fare Ok Non salta Porca troia Ok No, 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 no Con calma Con calma Con calma Allora Allora Non salta Eh già Ci sarà da bestemmiare Ci sarà da bestemmiare Sa Ok Spero che non si senta Davvero la tastiera Troppo In sottofondo Sì Suka Ce l'ho fatta Raga Ok, penso che possiamo fare Gli ultimi Due o tre livelli E poi basta Oddio Ma cos'è sta roba Raga No, no Cioè no Aspetta Davvero Ah ma devo andarci sopra Oh mamma No Salta Salta Grande E ora facciamo il super salto Della vita E anche il super fail Della vita Ok Questo era abbastanza easy Rispetto agli altri Era easy Quindi facciamo Anche questo Vai su Salta Non Oh ma con tasti posti Un buco minuto Minuscolo Dovevi proprio andarci dentro Di nuovo Ma che cazzo Salta Non salta Raga Non salta Ah ma Va via Attenzione Ma che cazzo Ah dove tocco Bello Dove tocco Raga va via Ok Ci abbiamo fatto Guarda qua di nuovo Veloce Sì Ok ci abbiamo fatta E' stato complicato questo Perché andavano via I blocchetti E qui Ah Quindi devo fare la stessa cosa Perché vanno via Ok Ok Salta Perfetto Qui di nuovo Scappa C'entra il buco C'entra il buco Bravo Bravo Così mi piace Così mi piace Bene Ultimo livello di oggi ragazzi Anche perché abbiamo già fatto un bel po' di minuti di video Qui va via Quindi bisogna muoversi Veloce Ok C'è il fuoco Occhio Dobbiamo arrivare solo là in cima Solo Là In cima Solo Là in cima Bello Bello questo Mi è piaciuto Anco Ma che palla Non salta Non salta Non è possibile Piano Piano Via No è vero che vanno via Regà Non ci credo Mi ero salvato Sul più bello Sul più bello Stavo dice Salta Porca troia No regà È impossibile Regà Sembra facile Ma Ok Non so come mi sono salvato Bello E ovviamente vado a morire Sempre lì Sempre Lì Lì Oh Attenzione Non so come ho fatto Regà È fottutamente impossibile Sto giochino di merda Io vorrei sapere Chi l'ha sviluppato Così vado A casa sua E lo uccido No perché Bello Ah sì Ci arrivo di sicuro adesso Regà No Dai Non salta Sì No Vai 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 Ah sì Ok raga Se l'abbiamo fatta Quanti tentativi ci ho messo Non lo so Non c'è scritto Il prossimo livello Sarà questo Oddio Che cazzo Di giro Ah vabbè È abbastanza semplice Forse Niente ragazzi Io spero che Questo gioco vi piaccia Fatemelo sapere Qua sotto nei commenti Iscrivetevi cosa ne pensate Commentatemi qui sotto i video ragazzi Ci sono sempre pochissimi commenti Non so mai Chi guarda i miei video Io voglio vedere Chi è che guarda i miei video Quindi ragazzi Mi raccomando Lasciatemi un bel like Commentatemi qui sotto i video Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E niente Io da Super Meat Boy È tutto Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi